Ciao a tutti e bentornati ad Overea Gondor, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Andiamo oggi a fare per Marvel Champions il pack eroe di Nightcrawler, edito Fantasy Flight e Asmodee Italia, che ringrazio per avermi inviato. Allora, questo pack eroe da 60 carte include un mazzo Nightcrawler completo precostruito, come ormai ben conosciamo nell'ambito di Marvel Champions, nuove carte da poter raggiungere a qualsiasi altro mazzo eroe di Marvel Champions, e devo dire che da una prima occhiata non ho ancora fatto l'upboxing, ma da quello che ho visto in rete sono veramente carte molto interessanti, e poi un set di incontri dedicato ad Azazel, che confesso non conosco. Io vi ricordo se vi piace il canale iscrivetevi, che è un modo semplice per farlo crescere, in descrizione trovate tutta una serie di link interessanti, tra cui i social di Dovera Gondor, il server Discord, il gruppo Whatsapp, che è attivissimo anche su Marvel Champions, e infine vi ricordo che se vi piace il canale e apprezzate i miei contenuti e volete offrirmi un caffè, considerate anche l'idea di abbonarvi al canale. Allora, Nightcrawler, qui c'è il suo solito, partiamo sempre dal solito opuscoletto, vediamo un po' ormai ora di Nightcrawler, che cos'è? Il cinquantesimo, il cinquantunesimo, siamo più o meno su quella cifra lì di eroe, bistrattato per il suo aspetto timoniaco, con l'eredità mutante e il cuore gentile di Kurt Wagner, gli hanno permesso di trovare una famiglia negli X-Men. Oggi sfrutta il suo potere di teletrasporto e il suo spirito avventuroso per contrastare le ingiustizie nei impanni dell'incredibile Nightcrawler, pack che si preannuncia interessante. Tra l'altro abbiamo la parola chiave inclusa, alleanza, far scorrere, carino, terminologia inclusa, parola inclusa, chiave, vittoria X, ovviamente, arriva nel suo mazzo protezione. Ricordiamo che questo è il terzo mutante della wave di Apocalisse, dopo Uomo Ghiaccio, Jubilee e Nightcrawler, e che quindi ci aspetta, insomma. Poi l'ultimo, e poi vedremo che cosa ci riserverà il gioco, anche se sappiamo già che, insomma, si parlerà del shield, e si concluderà, insomma, questa wave di tre box degli X-Men, diciamo più in generale dei mutanti. Eccola qua. Allora, tra l'altro ho un nuovo setup di camera, per cui poi fatemi sapere se vi piace questo nuovo setup. Nel colore 2-1-3, teletrasporto rapido, azione, spende una risorsa di qualsiasi tipo, rimetti nella tua mano un BAMF dalla tua pila degli scarti. Non faremo né l'analisi degli eroi, né l'analisi delle carte, che invece faremo settimana prossima, quindi poi alla fine, tra l'altro, vi lascerò il link del video live che faremo insieme agli altri ragazzi settimana prossima, a commentare questo pack che, come dicevo, si pronuncia molto interessante. Andiamo a farci un'idea un po' delle carte. Kurt Wagner, Rack 3, Alter Ego. Cerca nel tuo manzo un BAMF e aggiungilo alla tua mano. Limite di una volta per round. Ok, li mettiamo qui vicino alla nostra Hope Summers di questo fantastico tappettino. Abbiamo Day Tripper. Si è discusso a lungo se e quale alleato di firma avesse potuto avere Nightclore e finalmente siamo arrivati. 2-2-2, mistico, interessante tratto mistico, dopo che Day Tripper è entrata in gioco, cerca nel tuo mazzo, nella tua coppa degli scarti, un BAMF e assegnalo a un nemico. Infliggi un danno a ogni nemico con BAMF. Vabbè, sappiamo che BAMF è un po' la meccanica principale attorno a cui ruoterà completamente tutto questo pack. Abbiamo la chiesa di Kurt. Kurt Wagner riceve più 1 Rack. Dopo che è effettuato il recupero base, se avvisce la chiesa di Kurt, esce un giocatore e quel giocatore pesca una carta. Poi abbiamo queste sciabole di Kurt. Perdonatemi, sapete che la pronuncia non è il mio forte. Figuriamoci in tedesco, come penso che sia l'origine di Nightcrawler. È un'arma che conta come due carte restrizione. Nightcrawler riceve più 1 attacco, più 1 difesa e ritorsione 1. Non credibile, lo porta a un difesa di base 4 con le sue statistiche. Probabilmente è uno degli eroi che può raggiungere di base la difesa più alta. La Coda Prensile è un superpotere. Puoi controllare una miglioria aggiuntiva che possiede la parola chiave restrizione. Esaurisci Coda Prensile e genera una risorsa wild per un evento. E poi finalmente ci siamo alle 3 carte BAMF. Ci si è chiesto tantissimo quali erano queste carte BAMF. Abbiamo segno a un nemico, massimo 1 per nemico, interruzione eroe difesa. Quando il nemico con questa miglioria attacca, scarta questa carta e dichiara Nightcrawler come difensore senza esaurirlo. Qui poi si aprirà tutto il tema di come giocare Nightcrawler. Non è lo scopo di questo veloce video unboxing. Abbiamo il Teletraspugno. Attacco superpotere, infliggi 3 danni a un nemico, infliggi 3 danni a ogni nemico con BAMF. Ricorda un po' il pugno di ghiaccio dell'uomo ghiaccio come concetto. Cioè quelli che hanno BAMF si prendono i danni extra. Poi questa mi ricordo l'immagine. Teletrasporto e lancio, attacco superpotere, scarta un BAMF da un nemico, infliggi 8 danni a quel nemico, stordiscilo. 2 per 8 con stun è tanta roba. Ovviamente in realtà non è un 2 per 8, c'è anche un BAMF, per cui è come se fosse un 3 per 8 e stun. Interessante se lo confrontiamo sempre col solito calcio oscillante. Avanzo perte, intervento superpotere, potere, azione eroe, intervento, rimuovi 3 minacce da una trama. Puoi scartare un BAMF dalla tua mano per rimuovere 3 minacce da una trama diversa. Ok, 1 per 3 è molto efficiente. Tra l'altro con un BAMF diventa ancora più efficiente. Teletrasportarsi via. Superpotere scarta un BAMF dalla tua mano, cambia sembianza e ripristina la tua identità. Bello, perché tra l'altro è un'azione che non è né eroe né alter ego, quindi può essere usata sia come, diciamo, sia da alter ego che da eroe. Molto interessante. Engard. Difesa superpotere, risposta eroe difesa. Dopo che l'effetto di un BAMF ha reso Nightcrawler il difensore di un attacco, rimetti nella tua mano quel BAMF, infliggi 3 danni al nemico attaccante. Sì, beh, chiaramente è un continuo, diciamo, oltre a avere delle statistiche veramente notevolissime, è un continuo a giocare su queste carte BAMF. Rappresenta un po' le sue capacità di teletrasporto, ecco, che sono tipiche di questo personaggio X-Men. Poi, protezione. Uh, bello, perché poi sapete che è il mio colore preferito, quindi interessante. Qualche carta doppia. Però, Azazel è la sua carta Nemesi. Ok, va bene. Queste carte che arrivano sono fortissime. E poi, ecco, la regina di cuori, gesta l'esecutore. Ci arriviamo. Allora, Rogue, alleato 4-2-2-3, infligge un danno a un altro personaggio amico. Fino alla fine del round, Rogue ottiene ogni tratto di quel personaggio e aggiunge l'intervento e l'attacco stampati di quel personaggio e i suoi poteri corrispondenti. Ecco, interessante perché è un personaggio. Cioè, io posso farlo a un eroe, faccio un danno a un eroe e Rogue ottiene, che so, il più 3 dell'eroe. Molto forte, questa Rogue è molto forte. North Star, 1, 2, 3. Quando una carta a potenziamento viene girata a faccia in su durante un attacco, infligge un danno a North Star. Annulla tutte le icone di potenziamento di quella carta. Interessante. Tra l'altro in protezione si possono curare i personaggi, per cui diventa da tutti gli effetti un qualcosa, per cui ogni turno voi annullate le carte a potenziamento e poi, tac, squadra medica. Non male. Ribaltare la sorta. Miglioria costo 1. Gioco al solito il controllo di un qualsiasi giocatore. Massimo 1 per giocatore. Risposta. Dopo che sconfitto un nemico durante la fase del criminale, esaurisci questa carta, pesca due carte. Quindi il nemico sconfitto deve essere fatto durante la fase del criminale. Quindi carte che interrompono gli attacchi dei nemici, ritorsioni e cose del genere, dovrebbero innescarsi. Si, 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 si innescano. E' importante perché dopo che tu hai sconfitto, quindi c'è tutto quel tema che gli alleati non sono tu, ma insomma in generale il concetto è se riesco a ottimizzare l'uccisione o la sconfitta, più che l'uccisione, di un nemico durante la fase del criminale, ritorsione per esempio, o anche altre cose. Questa carta è un'enorme macina che ci permette di pescare. Sotto controllo. Assegna un gregario, quindi torna al tema delle migliorie da assegnare al gregario, che è un po' una caratteristica distintiva tra le tante del tratto X-Men. Massimo 1 per gregario. Dopo che non era difeso dall'attacco del gregario e con questa miglioria non ha subito danni, infliggi 4 danni a quel gregario. Beh, è interessante perché 0 per 4, giocando gli eventi difesa che rendono l'eroe difensore, diventa interessante. Vieni a prendermi, cocco. Allora, quando ho visto questa carta la prima volta ho detto, mmm, troppo rischioso andarsi a prendere un minion. Poi l'ho pensata con Thor e ho detto, cacchio, fortissimo, perché? Evento a costo 0, azione eroe, scarta carta da cima del mazzo negli incontri finché non scarti un gregario. Metti in gioco quel gregario impegnato con te, curi 3 danni alla tua identità e robustiscila. Leggiamo, Thor pesca anche due carte, quindi diventa davvero interessante. Soprattutto se si ha sopraffazione e curare 3 danni e robustire significa che poi tu di fatto ti curi, attaccherai il gregario, magari lo fai fuori e a costo 0, oltre a avere innescato cose virtuose col gregario che in generale ti possono essere servite, ti vai anche a parare un attacco. Ecco, volevo mettere da questa parte, così diventava un po' più carino se la luce ce lo concede. Ecco così, forse. Ok. Vieni a prendermi cocco, non male. Poi abbiamo il pugno devastante che però l'abbiamo già visto. Sì, sì, questa è una carta già vista. Interruzione eroe, attacco, difesa. Quando un nemico lancia un attacco, infliggi 4 danni a quel nemico. Ecco, questa può essere giocata ovviamente nella fase del criminale e quindi ci permette di triggerare quella prima. risposta. Interruzione eroe, quando il tuo eroe difende da un attacco, riceve più 2 difesa per quell'attacco. Se non subisci danni con l'attacco, infliggi 3 danni al nemico attaccante. Molto efficiente, più 2 è il classico, 1 più 2 degli eventi protezioni. Se non subisci danni con l'attacco, infliggi 3 danni al nemico attaccante. Diventa un 1 per 2 difesa per 3 danni. Con una difesa alta è effettivamente molto utile. Potere della protezione lo conosciamo. Ho una trama secondaria che è gli insuperabili X-Men. Vittoria 0, risposta. Dopo un personaggio X-Men ha difeso da un attacco e non ha subito danni. Sempre questo concetto, ovviamente molto sinergico con il nostro Nightcrawler. Rimuove una minaccia da questa trama. Quando è una risposta, quindi non è obbligatoria. Per cui si può fare finché non rimane magari una minaccia che poi togliamo solo quando vogliamo sconfiggerla. Tra l'altro stordisce e confonde ogni nemico in gioco. Pensatela con scenari multivilline, penso ai Cavaliere dell'Apocalisse o a scenari con tanti minion. Interessante. Gambit 3. Interessante la scelta di Rogue Verde e Gambit Grigio. 3 XX, dove X è pari al numero di coro di potenziamento sulla carta sotto Gambit. Risposta. Dopo che Gambit è entrato in gioco, guarda tre carte alla cima del mazzo di incontro e fanne scorrere. Wow. Una sotto di lui, in modo che sia visibile solo il suo campo di potenziamento. Non dice tra l'altro cosa fare delle altre. Qui poi andremo a verificarlo perché forse quando guardi... Quando cerchi devi sicuramente mescolare. Non so se funziona la stessa cosa col guardare. Lo verifichiamo. Chiedo ai ragazzi più esperti anche di commentare. Probabilmente ti fa anche scry. Quindi ti va a vedere delle tre carte. Uno la metti sotto e due le tieni su. Quindi ha una sorta anche di preveggenza che è interessante. Moira, my target le conosciamo. Le icone e risorse. La crisi di fede. Vediamo se è faticosa oppure no. È faticosa nel senso se è un'incommenza brutta oppure no. Classico, c'è l'effetto tra esaurisci Kurt e rimuove dal gioco crisi di fede. Scarta, diventa attacco difesa da tua mano. Scarta questa incombenza. Non mi sembra particolarmente violenta. Azazel, gregario 233. Colpo rapido, non possono essere assegnate migliorie. Quindi ovviamente non potrà avere il buff. Come potenziamento distribuisce Azazel come carta incontro a faccia in giù al giocatore Kurt Wagner. Dimensione sul Furea. Quando sconfitta, il giocatore che ha sconfitto questa trama trova Azazel e lo distribuisce come carta incontro fatta giù a se stesso. Poi spada di Azazel e poi due colpi sul Furei. Spada di Azazel. Se non puoi farlo, assegna il criminale. Perforante. Dopo che il nemico in questo giunto è stato attaccato, scarta una carta casuale dalla mano. Scarta questa carta. Colpo sul Fureo. Trova Azazel e rivela lo resto trama. Trova Azazel e rivela lo. E basta. Non trama. Semplicemente attacca. Interessante questa. Quando rivelata al Terego, trova Azazel e rivelalo. Esso trama. Quando rivelata eroe, trova Azazel e rivelalo. Ma a colpo rapido. Ecco perché la gabola era questa qui. Perché dicevo, beh, dovrebbe attivarsi. No, se sei un eroe a colpo rapido. Ovviamente ti becchi il danno in faccia. Ovviamente carte del mazzo pre-costruito. E poi abbiamo queste carte che si pronunciano. Molto interessante. Finalmente torna la parola chiave. Alleanza che già avevamo visto in realtà con Jubilee. Ma più in generale già fin dai tempi dei nostri amici guardiani. Azione eroe esaurisce un personaggio X-Man, X-Force e un personaggio X-Man. Sconfigge un Gregario non Elite. La commenteremo insieme. Dipende dagli scenari. Potenzialmente molto forte. Potenzialmente non serve a niente. Dipende ovviamente da, come dire, da che tipo di Gregari ci sono. Perché far fuori un Gregario non Elite come uno della confraternita, tipo un Blob o un Toad, è molto interessante. Altri Gregarini non è granché. Ecco che invece questa forse era la carta che ci era sembrata ben più forte tra tutte. La Diplomazia delle Cannoniere. Attacco intervento alleanza, azione eroe. Attacco intervento esaurisce un personaggio X-Force, un personaggio X-Man. Rimuove un totale di X minacce dalle trame in gioco. Infligge un totale di X danni ai nemici in gioco dove X è pari all'intervento totale dei due personaggi esauriti. Cioè fosse anche 2-2, noi tappiamo due personaggi. Un X-Force e un X-Man. E a costo 1 rimuoviamo 4 minacce dalle trame in gioco. Infliggiamo 4 danni ai nemici in gioco dove X è pari all'intervento totale. Carta alleanza, sbroccata? Lo vedremo, lo commenteremo però, interessante. Poi abbiamo la Crazy Gang. Che è un set di incontri modulari. Strano tra l'altro che non lo dice qua dietro. Non lo dice? No, dice un set di incontri dedicato ad Atazel. Strano che non dice, anche dedicato alla Crazy Gang. Risposta obbligata dopo che un gregaro è un'elita tramato contro un giocatore distribuisce quelli che gara come carta incontro a faccia giù col giocatore. Poi se ci sono due più giocatori in gioco passa quella carta incontro a faccia giù al giocatore successivo. Di fatto lo andiamo a spostare ma soprattutto rimettendolo. Questo magari è a colpo rapido, magari sicura, quindi può essere un po' fastidioso. La Regina di Cuori, 0-1-4, cerca nel mazzo di incontro di aprile di scarte incontro. La trama secondaria è a Crazy Gang e rivela la sera già in gioco ed esibuisce una carta incontro a faccia in giù a te stesso. Jester, quando rivelata sei confuso, sei già confuso, scarta un supporto. Non particolarmente fastidioso ma la confusione non è male. L'esecutore, quando rivelata esecutore attacca il personaggio amico con meno punti ferita rimanenti. Se questo attacco sconfigge un alleato, pericoloso questo, perché è imprevedibile. Rimuovi dal gioco quell'alleato. È abbastanza imprevedibile perché uno dice, beh, perché deve morirmi il mio alleato? Perché esecutore non guarda effettivamente a chi sta attaccando. Tweet the lope, spero che si dica così, 0-2-6, quando rivelata sei stordito. Quindi anche questa qua ha lo stesso modo di jester. Tra l'altro è molto, ovviamente, funzionale con la Crazy Gang. Perché la Crazy Gang praticamente dice che dopo che un gregario non è lita tramato contro un giocatore, e tra l'altro uno è portato a dire, beh, così qua li faccio tramare perché tanto hanno 0. È bello sto set, carino. Che cosa succede? Che distribuisci quel gregario come carta incontro a faccia in giù. E quindi quando poi la rivela, la rivela, e quindi attacco, confuso, sei stordito, e poi abbiamo l'insidia. Tagliateli la testa. Ogni giocatore si attiva contro il giocatore, ogni gregario si attiva contro il giocatore con cui è impegnato. Se nessun gregario si è attivato in questo modo, scarta carta la cima del mazzo incontro, finché non scarti un gregario. e rivelalo. Beh, direi che è un pack, non me ne voglia la buona giubilì, ma mi sembra che le carte siano un pochino più interessanti da un punto di vista di carte giocatore, ma, e andiamo a concludere questo unboxing, che spero vi sia piaciuto, ma ne parleremo diffusamente settimana prossima insieme ai ragazzi con cui faremo un'analisi delle carte nel clore, vi lascio il link al video qui, vi lascio anche il link alla notizia di Nightcrawler che avevamo commentato insieme, e quindi potete recuperare qualche commento a caldo. Io vi ringrazio, ciao, alla prossima!